ciao allora nel video di oggi voglio parlare del mio impatto sul pianeta un po un video che ho visto girare abbastanza online ed è interessante da fare anche per scambiarsi idee trucchi è interessante questa cosa ma prima di iniziare tutto questo sto testando questo nuovo rossetto assolutamente long lasting ma davvero e se mi piace direi che ne posso prendere un altro per voi da regalarvi quindi ricordatevi lasciarvi un commento e se non sapete di cosa parlo guardate la fine del video per saperlo allora partiamo e vi premetto che sono fatta foglio perché davvero qui c'è una super scaletta ma non voglio fare un video troppo lungo altra cosa che vi devo dire però ho cambiato le soft box e la ring light quindi ring e soft non mi piace tanto perché vedo che fa una luce alle mie spalle devo cambiare devo trovare l'inquadratura giusta ma iniziamo dunque le prime cose importanti va moltissimo a buon senso ovviamente nessuno è a impatto zero sul pianeta ovviamente però possiamo fare le scocitare tanti trucchetti o comunque buone abitudini che evitano di causare sprechi e di accumulare più rifiuti del nevuto allora quello che faccio io per adesso perché potrei sempre migliorare è intanto la mia acqua dell'acquedotto è già dolce di sua però abbiamo installato un addolcitore quindi adesso l'acqua oltre che aver fatto l'analisi quindi l'acqua è buona con l'addolcitore è davvero molto dolce quindi tendiamo a usare meno detersivo, meno sapone, meno prodotti per lavare quindi lavare i piatti, per lavare il bucato ma anche per la cura della persona quindi meno shampoo ed meno bagnoschiuma anche perché sennò staremmo lì ore a cercare di toglierle quindi già questo riduce un pochino di sprechi non sto a dirvi di chiudere l'acqua con le seponate perché credo che sia proprio la base questo altra cosa io bevo l'acqua del rubinetto tranquillamente è buona anzi trovo che sia più leggera e c'è presente sullo stomaco più leggera rispetto ad alcune acque confezionate quindi è buona sicuramente ed anche qui ho ridotto a zero plastica e vetro e trasporto perché uso quella del rubinetto unica cosa riempio la bottiglia e magari se la voglio più fredda la metto in frigo in inverno non c'è questo problema perché l'apro dal rubinetto e è già bella fredda che la senti sui denti tanto è fredda quindi non c'è problema cosa però diversa per il fatto di bere brontolo invece preferisce l'acqua frizzante ma sto sto ancora valutando l'idea se è prendere o meno il tipo lo so da quei gasatori da domestici devo valutare perché non so il costo iniziale non è altissimo ma poi sono le ricariche che non mi convincono non so se voi per caso ce l'avete ditemi assolutamente come vi trovate perché sono davvero curiosa di questo io conosco il suada stream perché è il più famoso ma ce ne sono altri quindi davvero sono curiosa di saperlo ma nel mentre visto che non compro acqua ed è frizzante lui va lui per lui perché spesso ci vado io invece ci sono quei distributori automatici gratuiti oltretutto del comune dove erogano l'acqua è naturale ed è gasata oppure a temperatura ambiente non mi ricordo c'è la terza che è sempre vuota quella colonnina lì è l'acqua comunque delle dell'acquadotto che viene erogata e anche in forma gasata e ci siamo accorti intanto andiamo lì a prenderla con le bottiglie e ci si trova benissimo poi ci siamo accorti comunque sia forse perché la beve solo lui quindi dura più a lungo che nelle bottiglie da un litro e mezzo o da due litri diventa sgasata molto velocemente quindi noi usiamo le bottiglie da mezzo litro ma per non usare le bottigliette che riutilizzeremmo però dopo un po' le bottigliette in plastica abbiamo preso queste sono in plastica rigida senza bpa sono da mezzo litro sono riutilizzabili si lavano tranquillamente a mano in lavatrice e sono belle rigide e queste davvero quella acqua frizzante dura tranquillamente sono comode anche da portarsi dietro comunque sia e soprattutto attenzione e bpa free e tutto quanto quindi non rilasciano sostanze dannose questo è importante poi veniamo un attimo a me perché invece sapete che io sono leggermente appassionata di tisane e tè e tutto quanto ha oltretutto io in borsa ho sempre una bottiglia d'acqua ma per non usare la bottiglietta o utilizzare queste ho la borraccia la 24 bottle però ce l'ho di là in frigo magari vi lascio una clip comunque ve l'ho parlato anche su instagram mi trovo benissimo ma ce ne sono comunque tantissime poi tisane io ho due tazze questa che utilizzo per le tisane calde quindi è anche questa è happy earth perché è completamente ecologica compostabile ed è ve ne avevo parlato a 450 ml in silicone e questo è in fibra di bambù la tazza quindi è tutta naturale ed è comoda perché ha sia il beccuccio per bere che è quello che è qui eccolo per la cannuccia questo per le tisane calde è una meraviglia si potrebbe anche portare in giro perché ecco qui aspettate i due beccucci si chiudono i due buchi però io la tengo in casa e invece per le cose fredde o questa qui si è deliziosa con snupi sempre mezzo litro questa invece è in plastica ha il tappo così eccola per quelle fredde perché le preferisco magari ci metto dentro di ghiaccio oppure la tengo in frigo mi ci trovo meglio perché ho due borracce e non un bicchiere o una tazza per le tisane o per gli infusi perché quando sono al computer le bicchiere tazza aperta sono le cose più pericolose di questo mondo cioè ci basta davvero pochissimo che ci prendiamo contro si rovescia sul computer oppure che una goccia mentre beviamo cade una goccia e il computer è una cosa elettronica oltretutto costa anche tanto quindi se abbiamo delle cose elettroniche evitiamo di usare i liquidi se proprio non possiamo non usare i liquidi almeno che siano sicuri cioè quindi chiusi vi garantisco che ci sono tanti 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 casi di computer che saltano a causa di liquidi e non crederete mai ma la cosa più dannosa in assoluto è la camomilla anche senza zucchero sulla tastiera la camomilla è una cosa tremenda ma questo è un altro discorso e non credo che vi interessa ma comunque sempre cose chiuse mi raccomando andiamo avanti e qui vi mostro sempre sul bere una chicca che sta però spopolando questa me l'hanno mandata da poco che cos'è questa è adesso ce ne sono tantissime online si vendono e allora intanto cos'è una cosa pratica e comoda da tenere anche in borsa comunque ho delle chiavi si apre così cannuccia è una cannuccia riutilizzabile è sensibile quindi piccina è comoda da utilizzare viene dotata del suo scovolino per quando viene lavata e evitiamo così le cannucci monouso soprattutto quando siamo fuori casa magari quando si va per locali o quando si va a bere evitiamo i prodotti monouso che poi vanno buttati ecco e questa è qui ce ne sono davvero tantissime in giro le ho viste anche a prezzi abbastanza alti questa non costa tanto tutti i link ve li metto su amazon perché tante cose comunque vengono da amazon e poi veniamo ai prodotti ultimamente per la cura della persona c'è anche nel trash partiamo con i dischetti struccanti di questi ve ne avevo parlato su instagram perché me li avevano inviati ma vi potrei far vedere che ne ho quattro confezioni che sto usando quindi li ho anche ripresi io allora i dischetti struccanti classici ve ne faccio vedere uno sono questi questo è in fibra di cotone morbidissimo sono comodissimi il pacco che ho io eccolo qua è da 20 ve lo lascio su il link su amazon aspettate che le ho messi nella bustina perché viene dotato di bustina questa traforata perché vanno messi tranquillamente d'avatrice e si lavano tranquillamente a 30 gradi questi sono nuovi perché non volevo farvi vedere usati però davvero ci mettete sopra il vostro struccante classico è bello morbido viene via tutto e poi dopo lo mettete io normalmente faccio così poi fate voi questo lo lascio vuoto e man mano che sono sporchi li metto dentro quando è pieno oppure quando mi servono tutte le lavatrice 30 gradi tranquilli io ho un trucco anche bello pesante ed è sempre bello pesante e viene via tutto certo dipende tantissimo anche dal tipo di trucco che avete e dal detergente che avete ma fate tranquillamente senza i soliti dischetti quelli in cotone anche se non li ho aboliti del tutto perché li uso per lo smalto per le unghie il tonico è invece quello per il viso smettete di usare il dischetto perché non serve a niente lo applicate con le mani oppure ancora più semplice una piccola bottiglietta col vaporizzatore e ve lo vaporizzate il tonico fantastico a proposito ce l'ho di là perché ne sto usando uno e altra clip che vi farò vedere perché in questo modo il tonico ve lo vaporizzate sul viso picchiettate e non avete usato dischetti ed è in cotone poi sempre per la cura della persona spazzolini da denti siamo passati da tanto allo spazzolino elettrico ma questo è una cosa che va a gusti e personali quindi non ve ne paolo più di tanto lo saprete voi ultima cosa e qui davvero siamo al trash ma ragazze se siete femmine sicuramente potreste capirmi assorbenti dunque ne ho provati tanti e tanti hanno parlato anche della coppetta mestruale sì ok l'ho provata funziona ma non mi ci trovo l'effetto non è che non mi ci trovo perché mi dà fastidio ma l'effetto ventosa che fa quella coppetta mi fa venire i crampi anche la misura giusta quindi la coppetta non era il mio il mio stile anche il mio stile non era adatto a me anche se comunque ne ho provate di diverse marche quindi non era un fatto di marca o di grandezza era proprio il fatto che l'effetto ventosa che fa per non causare perdite tendeva a causarmi dei crampi da quando l'ho smessa non ho più avuto quel tipo di crampo quindi era quella però ho trovato una vada alternativa e link sempre in descrizione ed è per amazon e io vi dico che sono quattro mesi che li uso e mi trovo benissimo gli assorbenti riutilizzabili come ad esempio possono essere i dei pannolini per i bambini ecco assorbenti riutilizzabili si vendono ci sono di varie misure possono essere classici quelli più piccoli tipo salva slip quelli più grandi tipo la notte ci sono davvero tantissime misure classica pochette stesso discorso la pochette è in un tessuto che come si dice è gommato ecco quindi si può portare in giro che una volta inserito all'interno quello usato non va a macchiare perché è gommato quindi come quello per i bambini facciamo prima come quello per i bambini quindi non ci sono perdite e poi è abbastanza discreto adesso andiamo sul trash ragazzi però è abbastanza discreto perché fatto in questo modo con il suo bottoncino ed è fatto così quindi va bene a stampa ok viene chiuso la parte questo è nuovo è nuovo questa è la parte che assorbe assorbe tantissimo davvero ragazze io mi trovo meglio che gli assorbenti classici assorbe davvero tantissimo e mi trovo bene una volta da cambiare non è come le mutande quelle assorbenti che devo cambiare tutta la mutanda questo basta togliere questo lo mettiamo dentro la bustina e ne cambiamo un altro e ovviamente se abbiamo puliti e sporchi non la stessa bustina ma davvero comodo anche questo link in descrizione per amazon ma davvero ce ne sono di tantissimi tipi non è un product placement mi trovo benissimo e per me sono una grande svolta stessa cosa lavarli in lavatrice oppure a mano io questi mi trovo meglio a mano quindi le lascio che mi ammollo poi dopo li lavo con un sapone neutro adesso sto usando il sapone di Marsiglia della Winnis che è completamente biologico ed è poi dopo risciacquo e i dettagli fuggi di lavatrice si stendono e ti fanno un ciclo completo quindi davvero fantastici e per me è stata la svolta ora visto il tempo direi che basta voglio sapere se vi ho fatto scoprire qualche prodotto nuovo se avete qualche trucco nuovo qualche cosa interessante e soprattutto nei commenti voglio sapere anche i vostri trucchetti non i classici quelli che spero che tutti noi utilizziamo quindi chiudere l'acqua mentre ci lave i miei denti spegnere le luci quando non siamo in una stanza lo stand by dei vari prodotti i trucchetti che si usano tutti i giorni anche che però non sono i classici di cui si parla sono curiosa e quindi adesso la parola a voi io spero di aver tenuto compagnia ed avevi fatto scoprire qualche trucchetto nuovo se ci sarà qualcosa di nuovo in posto in futuro vi aggiornerò e al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao